Come centro commerciale del parco è festeggiato il 9 anno dell'anniversario, quindi 9 anni sul territorio, però con una prerogativa importante perché chiedendo un accordo di collaborazione con tutto il parco commerciale, con Incini Sport, Franceschini, Euromercato, Mercatone 1, quindi credo che sia un'attrazione importante e soprattutto siamo riusciti a unirci per collaborare insieme su tanti fronti, su eventi futuri, su comunicazione e marketing, su collaborazioni e sul territorio. Ieri è stata una grandissima giornata con oltre 30.000 presenze, è stato cin dalla mattina un flusso di visitatori incredibile, poi abbiamo avuto il picco intorno alle 5 e mezzo del pomeriggio con code di auto sin dall'autostrada, con parcheggi ovunque e questo fa sì che ci faccia pensare che il centro commerciale del parco e tutto il parco commerciale sia la risposta importante per il territorio italizzato. Ieri abbiamo avuto la presenza del sindaco, abbiamo avuto la presenza di tutto il parco commerciale coinvolto, abbiamo avuto anche il capitano insieme ai carabinieri, sono venuti tutti a festeggiare questo anno importante, di che altro per come ci stiamo muovendo e avvicinando al territorio. È un accordo strategico, doveroso, perché io lo ricordo, l'avevo già presentato sulla piana, noi siamo il primo vero parco commerciale nato sulla piana frentina. Questo è importante perché si parla di prima che nascessero le concorrenze esisteva già il Franceschini Aeromercato, esisteva già l'encini sport, quindi è nato come parco commerciale naturale. Quindi c'era soltanto da mettere insieme tutte le varie teste per collaborare insieme. Già quest'anno posso anticiparvi sul Natale, avremo una cosa carina per le famiglie e bambini, avremo una slitta di Babbo Natale con i cavalli veri, cocchiere Babbo Natale che porteranno gratuitamente tutti i nostri clienti, tra l'encini, Franceschini e... Stiamo costruendo, per ora ci siamo conosciuti, stiamo cominciando questa grossa collaborazione siamo tutti sulla stessa onda e questo è importantissimo e quindi sicuramente il prossimo anno sentirete parlare in maniera massificata. Diciamo che noi siamo in una fase di restyling del centro commerciale, quindi stiamo attendendo la commercializzazione della zona del ripermercato che è stata ridotta, quindi al momento in cui faremo questa nuova commercializzazione o commercializzazioni, intraprenderemo una strada sicuramente diversa per lavorare tutti in sinergia.